che taglio e rimuovo io sono ateo perché sono un chirurgo in pratica un meccanico della carne che taglio e rimuovo e che non mi racconta mai nulla che assomigli a dio commento la carne non ti racconta nulla fino a quando non senti che tu il paziente la carne e il bisturi siete l'assoluto